Eccoci. Dunque, credo che si possa iniziare il nostro webinar, il nostro seminario. Buonasera a tutti. Saluto il professor Maurizio Ferraris, che è qui con noi. Saluto tutti i presenti, collegati, per questa diretta sul canale del laboratorio dell'Unirio, il canale YouTube. Dunque, grazie a tutti di nuovo per la presenza. Quindi possiamo iniziare le nostre attività di oggi. Il seminario è organizzato e promosso dall'Unirio e dall'Università di Torino. L'Unirio è l'Università federale dello Stato di Rio di Janeiro. Per essere più precisi, dal laboratorio di filosofia politica e morale dedicato a Gerardo Marotta, che ho l'onore di dirigere qui a Rio di Janeiro, presso l'Unirio, e dal Labbont, in collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell'Unirio, con il programma di post laurea, il dottorato in Scienze Infermieristiche e Bioscienze dell'Unirio, e in collaborazione con Giulio Inaudi, editore. Ringrazio nuovamente tutti e direi di passare subito la parola al nostro relatore, Maurizio Ferraris. Lo conosciamo tutti. È docente presso l'Università di Torino, autore di decine e decine di saggi, di libri tradotti in varie lingue. Una ricerca su Google, per chi magari lo conosce poco o vuole approfondire gli studi, le ricerche su Maurizio Ferraris. È uno dei più importanti e influenti filosofi dell'attualità. Lo ringrazio e gli passo subito la parola. Prima però, Maurizio, se mi permetti, una veloce, per così dire, informazione di servizio. Dopo la relazione del professor Ferraris, io aprirò la discussione con un breve intervento, una decina di minuti, e in seguito potremo dialogare tra di noi, potremo dialogare tra di noi, e anche e soprattutto dialogare con il pubblico collegato, che potrà fare le domande, potranno essere fatte, lo sappiamo, nella chat dal vivo del nostro canale. Bene? Maurizio? Bene, grazie. Grazie intanto per questo invito, grazie per l'ospitalità, l'accoglienza, e per l'occasione che mi viene data di presentare le idee portanti di questo mio ultimo lavoro, che vorrei riassumere in una pars destruens, diciamo, quali sono i problemi che secondo me si sono manifestati attraverso questa pandemia, e poi anche una, o meglio, interpretazione della pandemia, e poi anche una pars construens, cioè che cosa si può fare dopo, sperando che ci sia un dopo, apparentemente ci sarà un dopo, noi tutti siamo contenti che ci possa essere un dopo. Cosa che peraltro non era evidente quando è cominciata la pandemia, perché se ci pensate ci sono state delle visioni apocalittiche, altre visioni che dicevano che ci sarebbe stata una crisi economica senza precedenti, invece tutto sommato c'è stata una forma di tenuta, ovviamente dipende dai diversi paesi, in particolare ci sono stati persino dei vantaggi politici in Europa, perché l'Unione Europea, che era data come pressoché morta sotto la spinta dei sovranismi prima del virus, dopo, adesso, visto che è intervenuta in maniera significativa nel sostegno degli stati nella lotta contro la pandemia, ha di nuovo fatto sentire molto fortemente la propria voce, la propria importanza. A questo punto è probabile che ci sia qualche complottista che dirà che appunto era un complotto antisovranista per cui si doveva creare un virus per rafforzare l'Europa, ma ovviamente io non mi spingerei fino a tanto e credo che ben pochi si spingerebbero fino a tanto. Allora, cerco prima di tutto di spiegare il titolo che ho dato a questo lavoro. Studi post-coroniali, post-coronial studies, 600 sfumature di virus. Allora, prima di tutto studi post-coroniali, in questo senso che l'Italia è un paese che ha avuto un'esperienza coloniale molto tardiva, molto negativa e poco significativa, per cui quando si fanno degli studi post-coloniali con la L in Italia, si fanno degli studi spesso per sentito dire, o meglio, si parla delle colonizzazioni degli altri, dei problemi di una decolonizzazione che appare anche in qualche modo paradossale in una nazione come l'Italia che di fatto, fino alla propria unità, è stata una colonia di tante altre nazioni europee per parecchi secoli. Quindi mi ha sempre lasciato un po' perplesso la possibilità di creare effettivamente degli studi post-coroniali, coloniali, scusatemi, coloniali autentici, per esempio in un contesto italiano. Invece, una volta tanto, gli studi post-coroniali sono una cosa di cui noi in Italia abbiamo avuto esperienza così come il resto del mondo ha avuto esperienza, nessuno si è sottratto a questa esperienza, quindi è un elemento interessante perché riguarda l'intera umanità. Forse persino di più che, per esempio, le guerre mondiali, nel senso che le guerre mondiali hanno comunque avuto degli stati neutrali, invece il virus ci ha toccati tutti e ci ha toccati tutti con una rapidità, una diffusività che dipende appunto dalla forma di vita contemporanea, dalla grande connessione che si crea fra le nazioni. Insomma, queste cose sono le cose ovvie. Comunque adesso, supponendo che ci stiamo avviando a una riduzione del contagio, sappiamo che non è così in tutti i paesi, ma comunque dobbiamo in ogni caso guardare di fronte a noi. Il sottotitolo 600 sumature di virus nasce da questo, soprattutto nella prima parte della pandemia, quella che per esempio in Italia, e questa è stata un'esperienza non universale, penso per esempio che non abbia avuto luogo in Brasile, c'è stato il lockdown, cioè in parole povere siamo stati tutti quanti chiusi in casa per parecchio tempo, alla fine praticamente due mesi, e questo, perché al momento non si disponeva di vaccini, non si aveva nessun tipo di terapia, le terapie intensive erano sovraccariche, quindi l'unico modo era dire alle persone di starsene in casa, uscire soltanto per fare la spesa, perché non si avevano dei modi, si temeva che collassasse il sistema sanitario. Ora, questa è stata un'esperienza molto interessante, perché essere chiusi dentro ad una stanza provoca nelle persone la tendenza a descrivere la propria esperienza, e anche questa è una specificità di questa pandemia rispetto a delle altre precedenti, perché per esempio la spagnola, che ha avuto luogo all'incirca un secolo fa, ha colpito una popolazione mondiale che era composta in gran parte da analfabeti, che quindi non ha potuto lasciare traccia delle proprie esperienze, e soprattutto non aveva neanche i mezzi tecnici, per esempio il web, per esprimere le proprie esperienze. Quindi è interessante la quantità di scritti che sono stati prodotti anche e soprattutto dai profandi, nel senso che per esempio risulta che sul virus negli ultimi due anni, cioè da quando si è manifestato, sono state accettate e realizzate 180.000 pubblicazioni scientifiche. nessuna di queste è stata considerata nel mio libro perché per manifesta incompetenza di chi vi parla. Invece sono andato a vedere degli scritti molto vari che sono dai diari del confinamento a in vari posti del mondo perché sono esperienze che hanno avuto luogo in Italia come in Nuova Zelanda, quindi come ovviamente in Brasile ma in forme diverse. Comunque c'è un'ampia letteratura anche brasiliana considerata dentro al dentro al mio volumetto soprattutto in bibliografia perché ovviamente non potevo parlare singolarmente di tutti e 600 libri. e l'altra cosa è questa cioè molto spesso si ha l'impressione che le persone quando si sono chiuse in casa a scrivere scrivessero ma non leggessero cioè scrivevano le loro cose ma non leggevano le cose che scrivano gli altri. Questo è stato manifesto e ovvio nelle prime settimane di confinamento perché le pubblicazioni non erano ancora uscite. mi sembra che si sia continuato a leggere poco il tanto che è stato pubblicato forse per sgomento di fronte alla quantità anche dopo la fine del lockdown sebbene non della pandemia. Ora è interessante anche questo cioè scrivi tantissimo ma per rappresentare una esperienza personale molto più che per dar conto di una situazione generale. Anche questo ripeto è comprensibile non volendo fare un libro in più in cui si raccontava la mia personale veduta sopra al virus e la mia personale esperienza durante la pandemia ho cercato di fare un po' un po' come Aristotele che citava quando spiega l'Atenaion Politeia di Aristotele questo libro dove parla della costituzione degli Atenesi di Atene e fa parte di una raccolta di oltre 140 costituzioni greche visto che bisogna avere che aveva commissionato Aristotele visto che bisogna avere qualche modello nella vita ho cercato di fare come Aristotele ho preso 600 libri opuscoli articoli ovviamente cercando di farli entrare dentro a delle categorie e ho provato a farne emergere qualcosa e adesso vi racconto che cosa ne è emerso perché ovviamente il dato più manifesto almeno più clamoroso è stato il fatto che ci fosse un forte negazionismo da parte di intellettuali questo non è ovvio perché uno è abituato a pensare agli intellettuali come abbastanza vicini alla scienza quindi pensare che sin dall'inizio ed è stata per esempio la posizione di Giorgio Agamben si fosse interpretato il virus come un espediente biopolitico per affermare un dominio totale sopra alle popolazioni ecco questo è stata un'esperienza abbastanza sorprendente pensare che ci potesse essere una posizione filosofica che per esempio negava il virus lo vedeva come un pretesto lo vedeva come uno strumento un instrumentum regno uno strumento di governo eccetera 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 però appunto la sorpresa è alla fine molto relativa nel senso che se noi dal 2021 torniamo indietro di 400 anni al 1621 abbiamo la peste a Milano in cui c'è un filosofo anche lì cioè Don Ferrante che nega il virus con argomenti che ritroveremmo più o meno anche nei negazionisti contemporanei cioè il virus deve essere o sostanza o è accidente però che sia accidente ovvio che no che sia sostanza ovvio che no dunque il virus non esiste e conclude Manzoni perché Don Ferrante come gli italiani fra noi che mi stanno ascoltando è un personaggio di Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi finisce per morire proprio per non essersi curato penso ed va a elogio dei filosofi che invece negavano il virus che questi filosofi poi nella realtà pratica della loro vita abbiano preso delle precauzioni e questo va a loro merito però il problema è questo cioè il negazionismo filosofico è comunque un fenomeno di elite sono poche persone e quindi è anche poco rilevante dal punto di vista dell'interpretazione dei flussi delle ideologie dei pensieri più interessante invece è stato il fatto che c'è stato un fortissimo negazionismo diciamo così di massa o di popolo cioè ci sono molti negazionisti e poi quando è stato trovato il vaccino ci sono stati molti che si dichiaravano no vax perché ritenevano pericoloso il vaccino più del virus e quando in Europa come in altre parti del mondo è stato introdotto il green pass o nomi simili che sarebbe poi un codice a barre che ti dice se tu sei stato vaccinato almeno hai fatto il tampone oppure no e quando è stato introdotto questo come condizione per andare nei posti di lavoro andare all'università eccetera ci sono stati anche dei no green pass quindi abbiamo varie tipologie sì all'inizio c'erano i negazionisti il virus non esiste ed è stato inventato per degli scopi di dominio biopolitico poi c'è stata la posizione è più pericoloso il vaccino che il male che il vaccino sarebbe chiamato a curare e la terza posizione è quella che il green pass cioè il certificato vaccinale è una limitazione delle 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 libertà ed è un tentativo di conculcare l'umanità attraverso degli strumenti ripeto biopolitici allora questo però l'aspetto interessante di questo è che qui a portare queste idee non erano degli intellettuali erano persone di varia estrazione sociale in genere facendo che si facevano forti che fondavano i loro argomenti non con delle ripulse nei confronti della scienza ma piuttosto sostenendo che una scienza veramente non compromessa per esempio con l'economia con le grandi case farmaceutiche con tutti questi apparati una scienza di questo tipo ti dice che non devi vaccinarti oppure che l'impatto del virus è stato largamente esagerato fenomeno che ripeto si è dato in Italia come si è dato in altri luoghi e per esempio come sappiamo c'è stato un famoso che è diventato famoso medico francese di Marsiglia che diceva che non era necessario trovare il vaccino perché c'erano dei rimedi già esistenti molto efficaci rispetto al virus insomma ci sono state moltissime posizioni allora non ho nessuna competenza scientifica per giudicare queste posizioni quello che però mi piacerebbe fare è chiedermi ma da cosa dipende il fatto che in questo momento nel momento in cui c'è un virus si dica che il virus è stato introdotto come agente esterno per esempio prima si diceva degli Stati Uniti per far mettere in ginocchio la Cina e poi della Cina per mettere in ginocchio gli Stati Uniti tante altre interpretazioni fantasiose cosa cosa fa sì che si arrivi a queste a queste conclusioni qual è il il quadro concettuale che rende possibile tutto questo cioè prendiamo un passo indietro e vediamo qual è il contorno dentro a cui sorge l'ideologia complottista e questo contorno è particolarmente interessante secondo me perché è il mondo in cui noi viviamo e a cui non diamo sufficiente attenzione secondo me due sono i punti che stanno dentro al negazionismo così come dentro al complottismo così come dentro a tante altre posizioni che invece non si vogliono né negazioniste né complottiste ma che in fondo sposano questi due grandi assunti il primo grande assunto è che noi siamo padroni della natura e il secondo grande assunto è che noi siamo schiavi della tecnica e quindi padroni della natura che cosa significa beh significa che e notate questo assunto che noi siamo padroni della natura è un assunto che è condiviso come dicevo non necessariamente solo da un negazionista o da un complottista in fondo tutte le manifestazioni ambientariste muovono spesso dall'assunto che noi dobbiamo salvare il pianeta come se la sorta del pianeta dipendesse da noi ora evidentemente noi dobbiamo salvare l'ambiente in cui noi viviamo dal momento che ci vuol poco perché l'ambiente si trasformi e si sta trasformando rendendo probabilmente sempre più difficile la vita degli umani sulla terra ma questo non significa né una scomparsa della vita sulla terra altre specie prenderanno il nostro posto e quindi non c'è assolutamente la catastrofe del pianeta e inoltre il pianeta poi finirà di morire di caldo ma non sarà per le emissioni di CO2 che al massimo faranno morire di caldo gli esseri umani ma sarà perché il pianeta finirà se verrà abbracciato in un abbraccio mortale dal sole fra un bel po' di anni sperabilmente quindi non c'è una razio nel dire che noi dobbiamo salvare il pianeta la frase dobbiamo salvare il pianeta è una frase assolutamente priva di senso il pianeta si salva da solo mentre ha molto senso la frase noi dobbiamo salvare l'ambiente favorevole alla vita umana e a vite compatibili con la vita umana non dimentichiamo che quindi non è un ambiente generico se consideriamo che noi siamo l'ambiente del virus noi i nostri corpi sono l'ambiente del virus un ambientalismo radicale indifferenziato dovrebbe dire che noi dobbiamo cercare tutti quanti di morire per offrire al virus il massimo sviluppo possibile ovviamente questo è un paradosso a cui nessuno correrebbe dietro ma cosa significa questo significa ripeto che c'è una una convinzione di una onnipotenza dell'umano sulla natura che davvero non si capisce bene su cosa appoggi per inciso cito nel libro uno documental un documento filmato che è abbastanza significativo quello di un cantante pop italiano che in una trasmissione della domenica pomeriggio quindi queste trasmissioni molto popolari all'inizio della pandemia disse una frase di questo tipo e cioè che già che gli umani hanno distrutto i dinosauri gli umani saranno in grado di distruggere anche il virus ora dal punto di vista del buonsenso questa frase non ne ha alcuna nel senso che quando c'erano i dinosauri non c'erano gli umani e quindi gli umani non hanno certo potuto distruggere i dinosauri che sono invece scomparsi per tutti altri motivi che per inciso hanno reso possibile lo sviluppo degli umani ma il vero problema qua dentro è pensare che ci sia questa onnipotenza per cui noi siamo persino capaci tutto dipende da noi e quindi tutto quello che succede dipende da noi l'avrete sentito all'inizio della pandemia subito si è andato a cercare il colpevole e il colpevole era per esempio il fatto che si vendano dei pipistrelli e si vengano mangiati nei mercati cinesi insomma e qualche abuso che noi abbiamo fatto nei confronti della natura ci siamo messi a mangiare i pipistrelli e la natura ci ha punito dandoci il virus notate che l'inverso non è stato preso in esame cioè immaginiamo che ci fossero degli enormi pipistrelli che mangiavano gli umani e che in seguito a ciò i pipistrelli si fossero ammalati di un qualche virus presente negli umani si sarebbe detto che la malattia di pipistrelli era frutto della natura che si vendica no si sarebbe detto che era frutto del fatto che i pipistrelli mangiavano gli umani in cui erano endemici certi virus per esempio e che è esattamente quello che si può dire rispetto agli umani che mangiano i pipistrelli però impostare la cosa in questo senso cioè noi abbiamo non solo mangiato il frutto del bene e del male una volta in paradiso ma adesso anche i pipistrelli dà come risultato che siamo puniti da madre natura che si vendica contro gli abusi dell'umanità è interessantissimo se facciamo un po' di riflessione questo filo esplicativo è stato potentissimo all'interno degli tentativi di spiegare perché c'è questa pandemia che cosa sta succedendo non ci aspettavamo niente ed è successo questo patatrack bene è interessante anche osservare che da una parte sembra strano considerarsi padroni della natura nel momento in cui un pezzo di natura cioè per l'appunto il virus si è manifestato e ci ha messo tutti quanti in ginocchio cioè bastava un virus che si diffondeva e ha colpito i nostri organismi perché noi siamo organismi esattamente come tutti gli altri organismi viventi del pianeta e ci siamo trovati tutti in ginocchio senza dimenticare poi il fatto che quando pure uno riuscisse come auspicabilmente si auspica che tutti quanti riescano a scampare dal virus comunque presto o tardi morirà proprio perché è un pezzo della natura quindi noi che siamo parti della natura considerarci padroni della natura è un'idea davvero bizzarra che ai miei occhi riflette come emersa come una cartina di tornasole proprio con il virus per inciso fateci il caso immaginiamo qualche altra catastrofa perché gli umani amano attribuire trovare delle cause quello che avviene perché trovare delle cause e magari anche dei responsabili è un modo per dare senso a ciò che senso non ha cioè arriva un virus succede persone muoiono tutto cambia che senso ha questo se dici che tutto rientra all'interno di un disegno più o meno di volontà di potenza ti sembra di trovare un senso bene ma allora concentriamoci su questo punto per esempio nel nel 1700 c'era stato un grande evento simbolico il terremoto di Lisbona il terremoto di Lisbona era apparso particolarmente simbolico non perché fosse stato un terremoto che di terremoti ce ne sono stati tanti ma per le circostanze in cui è avvenuto e cioè il terremoto ha avuto luogo di domenica a Lisbona quindi i cristiani erano in chiesa in quel momento le chiese hanno preso fuoco i cristiani sono fuggiti sulla spianata davanti a Lisbona e lì sono stati travolti dallo tsunami che si era prodotto sempre a seguito del terremoto mentre gli islamici che stavano nel quartiere islamico di Lisbona visto che non erano in chiesa perché le loro funzioni le facevano nel venerdì ci sono salvati questo aveva creato uno sconforto uno sconcerto come può Dio permettere che i fedeli i suoi fedeli vengano distrutti dalla natura sarà Dio cattivo e si è posto appunto il problema della teodicea cioè della giustificazione di Dio e delle azioni che lui faceva ora interessantemente secondo me il problema della teodicea non si è posto affatto nel corso di questa pandemia tranne sporadici casi che ho trovato nel mio esercizio di accumulo di iscritti sul virus ben pochi hanno sostenuto che Dio si vendicava della nostra empietà o delle nostre azioni e ci mandava una pandemia a punirci invece l'interpretazione predominante è stata appunto che una nuova divinità che tutti che tutta l'umanità adesso venera cioè madre natura offesa dagli umani si era vendicata per inciso questa è l'interpretazione del fenomeno che ha dato lo stesso Papa il Papa ha detto sostanzialmente che questo fenomeno non era la vendetta di Dio ma la vendetta della natura peraltro il Papa ha avuto dei meriti importanti ai miei occhi nel corso della pandemia per esempio la chiesa cattolica ma tante altre chiese ovviamente per esempio ha detto non andate a messa perché questo tutelava rispetto all'ipotesi di andare ad accrescere il contagio oppure ha detto vaccinatevi immaginiamo se un'autorità religiosa avesse detto di non vaccinarsi probabilmente i no vax sarebbero stati molto molto superiori rispetto a quelli che sono quindi primo punto fondamentale noi siamo i padroni della natura tanto è vero che tutto ciò che accade nella natura ha presto o tardi un mandante umano questo mandante umano a vari volti può essere il capitale può essere l'avidità può essere il desiderio di controllo degli stati però c'è sempre dietro un mandante umano uno potrebbe immaginare che un'umanità che ha degli ideali così prometteici cioè che si pensa capace di uccidere penso a mani nude dei dinosauri sia un'umanità che non che ha un alto concetto di sé e che ha una fortissima autostima in realtà non è così perché contemporaneamente l'altra ideologia concorrente dentro a questo rivelatore di ideologie che è stata la pandemia è l'idea che noi siamo schiavi della tecnica e quindi compare questa è un'ideologia che io trovo molto pericolosa perché alla fine è un'ideologia vittimaria come dire che l'unico tipo di significato politico che può avere l'umanità è quella di essere vittima di stanze tecno biopolitiche di cui è il suddito il limite di una posizione di questo genere che in fondo è come se fosse una servitù senza dialettica signoria servitù ossia tu sei servo e basta e non potrai mai diventare signore perché l'alternativa che ti sta di fronte è troppo forte e quindi e quindi puoi giusto fare delle azioni di come dire di guerriglia per esempio opporsi al potere rispitandosi di di vaccinarsi questo spiega per esempio perché si può considerare essere no vax come un'azione politica tu come soggetto hai rinunciato a essere un soggetto importante nella storia per esempio qualcuno che prenderà il potere e determinerà la storia futura e invece sei semplicemente qualcuno che si rifiuta rispetto a certi obblighi perché vuole testimoniare con questa la propria non adesione a questo dominio universale che si è affermato ora è abbastanza interessante secondo me riuscire a capire qual è l'origine di questa di questa idea che noi siamo schiavi della tecnica perché in fondo se pensiamo fino alla prima metà del novecento l'atteggiamento degli ideologici nei confronti della tecnica era di tipo prometeico cioè la tecnica è quel costrutto umano che ci ha permesso di dominare la natura ed era per quello che lì si fondava l'idea che noi siamo padroni della natura perché grazie alla tecnica noi siamo padroni della natura però stranamente a un certo punto è risultato che noi non siamo neanche padroni della tecnica ma ne siamo schiavi come si è prodotto questo io ho fatto una piccola inchiesta ricerca che ho presentato dentro a questo libretto ed è il fatto che a Norimberga come sappiamo è stata processata la classe dirigente tedesca nel Terzo Reich e tra questi c'era Albert Speer il ministro degli armamenti di Hitler e un uomo peraltro molto intelligente molto capace che è molto abile perché all'inizio del processo lui si è dichiarato colpevole cosa che invece gli altri gerarchi in genere non hanno fatto e infatti sono stati giustiziati lui ha avuto soltanto vent'anni di prigione perché ha detto sì sì sono colpevole colpevole di tutto quello che mi viene addebitato però nella dichiarazione finale a Norimberga che per inciso si può leggere nell'autobiografia di Speer e si può anche trovare su youtube per inciso proprio il filmato originario Speer sostiene questo che certo noi eravamo colpevoli però l'apparato tecnico così come si era costituito in Germania era talmente sofisticato che noi potevamo soltanto eseguire degli ordini e quindi questo apparato visto da fuori era un gran groviglio di cavi che si intrecciavano e che faceva sì che anche la periferia si esercitasse un potere inaggirabile ora questo nel 1946 nel 1949 Heidegger pronuncia a bremo una conferenza famosa Duskestel l'imposizione in cui racconta che appunto siamo tutti sotto l'impronte l'imposizione della tecnica la tecnica ci comanda e noi siamo soltanto gli esecutori del dettato della tecnica che è l'ideologia oggi prevalente nel senso che l'ideologia prevalente è dire che noi siamo schiavi del web per esempio del web che stiamo adoperando in questo momento e che non c'è via l'uscita perché questa schiavitù è ormai la nostra la nostra seconda natura che cos'è il problema qua dentro primo che significa che noi non siamo responsabili di niente esattamente come Sper diceva che era sì colpevole ma non responsabile perché la responsabilità in ultima istanza dipendeva dalla tecnica e l'altra perché ci precludiamo un movimento di comprensione di trasformazione che forse potrebbe come dire dare un'altra prospettiva e un'altra alternativa a tutti quei moti di scontento di emarginazione di insoddisfazione che sono stati secondo me al centro del negazionismo e del complottismo diciamo così popolare per distinguerlo da quello da quello intellettuale come tale minoritario è poco significativo dico questo perché se noi per esempio forti dell'esperienza che abbiamo avuto e cioè che non siamo padroni della natura ma ne siamo soggetti perché ne siamo parte e però non siamo neanche schiavi della tecnica perché la tecnica non va da nessuna parte senza gli umani immaginate tutti gli apparati le piattaforme che abbiamo adoperato così tanto durante questa questa pandemia immaginate tutto questo e pensate se sopravvivere potre possano sopravvivere anche solo tre secondi alla scomparsa dell'umanità ovvio che no perché tutto questo serve a noi non serve agli animali non serve agli astri non serve ai virus i virus non non sanno cosa farsene del del web sanno cosa farsene degli umani ora se ci rendiamo conto che quindi gli umani non sono i soggetti sudditi del della tecnica ma ne sono in ultime istanze i padroni che si trovano a essere schiavi non sono schiavi della tecnica ma sono schiavi di altri umani che adoperano la tecnica bene in questo in questo caso si apre una grande possibilità di emancipazione per l'umanità e quindi queste morti e questi eventi ci avranno insegnato qualcosa per non lasciare indeterminata la mia prospettiva faccio presente la descrivo sommariamente nel libro ma invece è stato l'oggetto di un lavoro molto più grosso molto più impegnativo che ho portato a termine fra l'altro durante la pandemia perché ero in lockdown e ho potuto scrivere questo libro che si intitola Documanità e che è uscito dalla terza dell'aprile scorso lì faccio una proposta di Webfair cioè si può fare un nuovo Webfair basato sulla tassazione dei giganti del web gli spiego come perché eccetera partendo dall'assunto che il Web è totalmente dipendente dall'enorme lavoro non pagato dall'enorme produzione di valore non pagata che gli umani generano attraverso le loro continue interazioni appunto sul Web quindi è come se le piattaforme fossero delle grandi delle grandi fabbriche che non pagano i propri operai e questo spiega i loro enormi guadagni non c'è niente di illegittimo in quello che fanno le piattaforme soprattutto le piattaforme sono pochissimo interessate a spiare i nostri comportamenti perché a loro interessano non i comportamenti degli individui ma come in generale si comportano gli umani per ragioni di pubblicità profilazione automazione un sacco di cose però il punto fondamentale è che le piattaforme non sono interessate a spiarci ma sono interessate a raccogliere i nostri comportamenti e che i nostri comportamenti una volta registrati generano un valore molto elevato se si riesce a tassare a distribuire questo plusvalore delle piattaforme a sostenere con questo di molti che avranno perso il lavoro a causa dell'automazione a generare dei circoli virtuosi di capacitazione di educazione degli umani rendendo così possibile un'umanità che non sia più semplicemente dedita a lavorare con una parte della macchina ma invece sia una produttrice di valori come sta succedendo sul web in questo momento però lo facciamo gratis bene questo secondo me potrebbe essere una buona una buona soluzione ai tanti problemi che sono stati evidenziati da questa crisi pandemica e in particolare alle angosce legittime ma mal orientate che stanno dietro per esempio alla rivolta Novax Perfetto io ringrazio il professor Ferraris ringrazio Maurizio per la sua relazione e come dicevo all'inizio avremo modo di dialogare avremo modo di ascoltare qualche minuto in più il professor Ferraris su questi temi su questi assunti trattati un modo al quale abbiamo pensato per conversare dialogare quindi aprire nuovi spunti di studio e ricerca è quello di dare un ruolo un po' più attivo al mediatore diciamo che sono io il discussant o mediatore o coordinatore della tavola rotonda o del seminario in traduzione dal brasiliano un mediador coordinador de patador da mesa redonda per per chi ci ascolta in altre lingue e quindi io ho preparato degli spunti delle annotazioni di una decina di minuti ho preso spunto da quello che il professor Ferraris ha condiviso con tutti noi cerco di aprire spero che la tecnica mi aiuti il mio word eccolo qui e poi ritorneremo dopo questo mio breve intervento ripeto un 10-15 minuti cercherò di essere breve in qualche momento forse un po' duro su questi temi un po' polemico magari ma non ho tempo per approfondire in questa sede ovviamente perché noi vogliamo sentire il professor Ferraris su questi temi dunque quello che avevo in mente dico alla cabina di regia possiamo anche lasciare ecco i due perfetto tra gli spunti del relazione del professor Ferrari mi ero mi ero segnato c'è una credo che sia la quarta di copertina del libro citato credo comunque parliamo del futuro dice quella quarta di copertina del libro del professor Ferraris ecco lo scopo dei post coronial studies che non si accontentano di compatire il mondo ma cercano di trasformarlo cercano di comprendere il mondo e cercano di trasformarlo comprendere la società comprendere ciò che accade è un'espressione cara al professor Ferraris e cerca di trasformarlo in maniera concreta in maniera realista in maniera attiva come diceva prima il nostro relatore si apre una grande possibilità di emancipazione in questo senso il mio contributo va segue queste tracce cerchiamo di capire e cerchiamo di trasformare di offrire delle prospettive di analisi filosofiche ma anche sociali ma anche popolari nel senso migliore del termine cioè la filosofia l'università che esce dalle sue torri d'avorio e parla direttamente o cerca di parlare senza perdere il suo rigore la sua specificità alla società tra gli spunti che io avevo diciamo che mi ero segnato e per fare questo ho ripreso una serie di annotazioni e di testi pubblicati su alcune riviste quasi un anno e mezzo fa e che non hanno perso la loro attualità e quindi mi rimetto a questi testi sulla rivista della società italiana di filosofia politica poi pubblicati in portoghese e in spagnolo sulla rivista su altre riviste comunque solo per non perderci tra gli spunti la prima cosa era la domanda fondamentale quello che qua in Brasile ma non solo in Brasile si è definito come nuovo normale e che ci assilla tra il bene e il male al di là del bene e del male forse da quasi un anno e mezzo questa famosa domanda il coronavirus ha trasformato la nostra società la nostra collettività la nostra maniera di vivere ed è una domanda un po' strana che mi ha mi è sempre suonata strana fin da maggio a giugno dello scorso anno perché per sintetizzare ovviamente il microcosmo di tutte le famiglie che hanno avuto un lutto a causa del coronavirus di tutti quelli che hanno perso il lavoro di tutti quelli che hanno ancora oggi le conseguenze neurologiche fisiche mentali causate ancora non lo sappiamo molto bene causate dal coronavirus che non sono morti però hanno patiscono ancora oggi le conseguenze se ci riferiamo a questo microcosmo alla tragedia al dramma collettivo sociale è ovvio che le vite di tutti coloro che hanno avuto a che fare purtroppo con il coronavirus si sono trasformate un lutto trasforma la vita ma evidentemente la domanda fondamentale non era e non è sul microcosmo ma era sulla società siamo cambiati la società è cambiata dobbiamo abituarci a questo nuovo normale io dicevo cerco di trovare non entro nel merito perché è uno spunto molto più generale anche molto difficile riferirsi a questi cambiamenti nel macrocosmo sociale dicevo all'epoca ma non è un'affermazione è un punto di domanda credo di no così come la spagnola due anni dopo iniziano i conflitti o pochi anni dopo che porteranno alla seconda guerra mondiale credo che le società non cambino non siano cambiate quindi il fatto di dire come dicevo leggo qui credere e annunciare che un virus possa cambiare il mondo e la società il macrocosmo è poco meno di una profezia rischiosa ingenua e forviante quale sarebbe diciamo la proposta la pars costruens la necessità di una nuova etica di una rivoluzione etica individuale e collettiva che rinnovi la tensione critica tra il sé e l'essere con gli altri senza una nuova paidea non semplicemente riprendere la paidea greca per esempio ma una riformulazione critica niente è possibile questa è la lezione scrivevo un anno e mezzo fa se proprio vogliamo trovarne una di ciò che accade è il primo spunto e che si conclude con un'affermazione che però è un punto di domanda su questo famoso o famigerato nuovo normale il virus che cambia il mondo il virus ha cambiato il microcosmo il mondo di chi purtroppo ci ha avuto a che fare con lutti malattie morti decessi perdita del lavoro difficoltà finanziarie e economiche ma la società con i suoi egoismi per esempio con il suo relativismo con i suoi attacchi alla verità con il suo negazionismo non mi pare è una domanda che sia cambiata e questo va un po' diciamo seguendo le tracce se ho capito bene in alcuni punti delle idee del professor Ferraris di Maurizio tra l'altro è necessario anche prendere posizione se vogliamo trasformare il mondo è pericoloso soprattutto in America Latina è pericoloso a buoni intenditori poche parole e mi ricordo di la Boessi quando dice nel discorso contro la servitù volontaria siate dunque decisi a non servire mai più e sarete liberi spero che questo motto di la Boessi non venga diciamo non diventi un motto del dei negazionisti dell'estrema destra o delle destre che odiano anche le sinistre odiano purtroppo ma è qualcosa di molto più complesso siate dunque decisi a non servire più e sarete liberi chi è il tiranno al quale si riferisce la Boessi probabilmente non è il tiranno politico o biopolitico agambeniano per così dire e questa è la domanda fondamentale dicevo un'altra necessità dunque di prendere posizione o di chiarire mi veniva in mente la giunta tuitiva il primo governo indipendente del Sud America che si insediò nella città di La Paz nel luglio del 1889 molti credo conosceranno questo incipit grazie al libro classico ma ormai è purtroppo datato di Edoardo Galeano le vene aperte dell'America Latina il proclama insurrezionale della giunta tuitiva si apre con queste parole io cito lo cito abbiamo mantenuto un silenzio molto simile alla stupidità fino a questo momento quindi stare zitti significa servire il potere ridursi a membro di un gregge sociale e anche filosofico e anche politico il secondo spunto è cerco di trovarlo è quello relativo eccolo qui al negazionismo quindi lascio da parte tutti gli spunti importantissimi dell'ambiente siamo schiavi della tecnica o no noi siamo padroni c'è la questione della responsabilità quindi di una nuova etica di una nuova paideia la parola responsabilità è stata citata prima dal professor Ferraris lascio da parte questo spunto vorrei soffermarmi molto rapidamente mi perdonerete in alcuni in alcuni momenti sono un po' per virgolette superficiali ma sono spunti non mi sono preparato nulla l'idea del nostro seminario era questa è un dialogo quindi spunti che poi annotazioni che sono state scosse dalla relazione del professor Ferraris e quindi il secondo punto è quello del negazionismo dei novax di quel negazionismo filosofico il professor Ferraris ne ha parlato all'inizio della sua relazione e poi di quel negazionismo del popolo chi è il colpevole di questo negazionismo colpevole è una parola pesante che uso di proposito l'ho aggiunta le mie annotazioni qualche minuto fa chi sono i responsabili da tempo io mi dedico a una vecchia conoscenza del professor Ferraris che è la postmodernità e come vengo dicendo come dico da qualche tempo da qualche anno direi il negazionismo è frutto degli attacchi alla verità che da decenni la postmodernità che è un successo un'altra tesi del professor Ferraris al quale devo molto e mi sono sempre chiesto com'è che una corrente una tendenza filosofica un'idea filosofica di un gruppo di un pugno di docenti chiusi nella nebbia italiano francese dei grandi maestri e poi dei discepoli o dei commentatori durante varie generazioni fino ad oggi come un'idea filosofica è diventata virale è diventata il leitmotiv è diventata il filo conduttore della società in America Latina e soprattutto in Brasile è fortissimo io ho l'abitudine di dire a lezione per i miei studenti il Brasile è il paese più postmoderno che ci sia sia nel senso dei maestri quindi è un elogio di emancipazione di libertà fortissima che il pensiero brasiliano in più in generale il pensiero latino americano può contribuire e contribuisce fornisce agli studi sociali filosofici politici ancora poco conosciuti evidentemente e però è il paese postmoderno per eccellenza criticando quindi io dicevo e rilancio questa cosa al professor Ferraris chi è il responsabile del negazionismo del popolo io non mi sorprendo ma non mi sorprendo non mi sono sorpreso durante la pandemia e non mi sorprendo già dal 2017 2018 e anche in alcuni eventi seminari che ho tenuto in Italia negli anni scorsi a Firenze anche a Torino a Roma a Napoli dicevo come stupirsi se da decenni il pensiero filosofico e non solo il pensiero filosofico ci dice forse a sproposito il pensiero postmoderno dunque ci dice che la verità non esiste che la verità è patriarcale che la verità è patetica e anche la verità della scienza che è maschilista che è illuminista che è colonizzatore colonizzante coloniale eccetera eccetera non lo dico con ironia evidentemente ma gli anticorpi già da qualche decennio sono neutralizzati quindi come stupirsi dell'avvento lo dico a lezione della nuova destra come stupirsi di Trump come stupirsi di Bolsonaro come stupirsi di Salvini non faccio un discorso politico ideologico le mie posizioni non è il caso io faccio una riflessione cerco di fare una riflessione filosofica sociale come stupirsi delle fake news come stupirsi professor Ferraris del negazionismo quando da decenni la postmodernità e il successo di questa idea che la verità non esiste che la verità è patetica che la verità è oppressiva che la verità è autoritaria che la verità è fascista come stupirsi se da decenni ci dicono tutto ciò e i populisti un'altra vecchia conoscenza di testi del professor Ferraris ne hanno approfittato evidentemente e non solo i populisti quindi questo è il punto di domanda del negazionismo il responsabile il colpevole probabilmente è questa tendenza dei discepoli della seconda della terza generazione dei commentatori che tutto vale i nicciani allegri come li definisco io spero di non farmi molti nemici più di quelli che ho scherzo non ho nemici credo di non averne vorrei l'ultimo punto che era quello della tensione tra individuale e collettivo usando Wittgenstein e Benveniste e la psicologia delle masse di Freud non voglio non è il caso forse già mi sono esteso mi sono allargato un po' come si dice nella mia città natale che Salerno si è allargato un po' con questa cosa un ultimo minuto per chiarire questo punto del successo di questa tendenza il successo della tendenza filosofia delle idee della postmodernità perché c'è un punto che anche è stato accennato che è stato chiarito ma probabilmente per ragioni di tempo non approfondito nella relazione anche perché non ci interessava in questo contesto nostro cioè tra questo negazionismo filosofico e il negazionismo del popolo forse il punto nei miei termini la distruzione degli anticorpi dovuta al successo della postmodernità cioè come rispondere a quella domanda che mi inquietava cercare di rispondere attenzione rispondere un po' pesante a quella domanda che mi assillava inquietante da anni non solo a me voglio dire soggiace a qualsiasi riflessione del successo come è possibile che una idea filosofica di critica della modernità nella prima generazione di Vattimo di Leotard ma anche di Derrida di Lorti eccetera di quelli che poi hanno sono stati inglobati etichettati tra virgolette di postmoderni di un gruppo di professori francesi e italiani che criticano la modernità il telos della storia il progresso criticano con nuove forme di libertà e di emancipazione interessantissime mi riferisco a questa prima generazione ai maestri della postmodernità criticano e cercano di riformulare in qualche modo l'istanza moderna e illuminista arriva a questo successo virale e globale una delle possibili spiegazioni ricordo non so se il professor ferraris lo sa che per esempio decostruzione è una delle parole più alla moda in Brasile si usa anche nel grande fratello è stato usato io l'ho portato a lezione l'ultimo grande fratello brasiliano dove ha avuto un successo di pubblico che ci sono state delle questioni interessantissime sociali naziali conflitti eccetera è stato degno di analisi filosofica a stritto senso di portarla a lezione io l'ho fatto decostruzione come è possibile che decostruzione che per Derrida è un termine complicato è diventato una così come postmodernità così come l'appello alla libertà è la mia libertà è la mia vita io decido su tutto questo chi sei tu per dirmi un criterio per indicarmi un valore o una verità chi sei tu scienza per dirmi che devo usare la mascherina questo è un problema fin dall'epoca questa rivolta contro le mascherine nei locali chiusi quanti litigi ho avuto io in Brasile anche rischiando sei una farmacia mettiti la mascherina già da un anno e mezzo fa che forse i Novax non erano ancora così forti qual è questo anello di congiunzione che manca tra una dottrina accademica universitaria di un gruppo di un pugno di professori e il successo virale una possibile indicazione e qui chiudo e ringrazio la pazienza del professor Ferraris e degli ascoltatori l'ho trovata in un testo di Gessé Sousa sociologo brasiliano che ha molto amato dalla sinistra brasiliana a elite do atraso l'elite del ritardo in traduzione libera in italiano non suona molto bene è un libro del 2017 tra le righe una specie di corollario forse Gessé Sousa potrebbe riprendere questa indicazione la lancia alla la butta alla lui parla di idee guida credo idee forza e lui dice risponde a questa domanda come una dottrina un'idea universitaria si torna popolare e lui dice una citazione di qualche riga e qui chiudo apri virgolette nei media nessuno crea nuove idee mi riferisco ovviamente all'idea e forza quel tipo di pensiero che conduce una società in un senso o in un altro ed è ristretto a intellettuali e esperti ben formati i media prendono il loro potere di fuoco da questo deposito di idee dominanti e consacrate dico io create da un pugno di professori e professoresse ovviamente è fondamentale ritorno a Gessessosa dunque capire come le idee vengono create e qual è il suo ruolo nel modo in cui una società definisce il suo percorso specifico non solo i media ma anche gli individui e le classi sociali definiscono la loro azione pratica ne siano coscienti o meno a partire da questo deposito di idee chiudo virgolette da questo deposito di idee universitario accademico di gruppi di potere perché no accademico universitario crediamo che i media o i media o i social media dice Gessessosa se lo interpreto bene crediamo che i media creano nuove idee e le impongono invece semplicemente trasformano idee e intellettuali perché no in tesi che trasformano la società che guidano che la orientano trasformano un germe in vitro in un virus mi perdonerete la battuta virale grazie e scuso se mi sono dilungato un po' però no no grazie grazie a te hai detto davvero moltissime cose e molto importanti per cui adesso quello che sto cercando di fare è di riordinare un momento mi stavo facendo una lista e in un attimo vengo a cercare di come dire replicare e allacciarmi a quello che dicevi visto che hai detto tantissime cose ho deciso di essere stentoreo e anzi apodittico e quindi ho messo dieci parole chiave dove secondo me si riesce un po' a gettare luce su sul tanto che hai detto hai sollecitato se mi permetti Maurizio mentre riordini le idee volevo ricordare che è possibile fare le domande in varie lingue diciamo nella chat della nostra diretta youtube o per chi ci segue dal Brasile ho ricevuto alcuni whatsapp magari se c'è qualche problema siete in giro o siete a lezione per chi ha la mail del laboratorio labfilgm chiocciola hotmail punto com o il mio whatsapp me le manda che poi io le giro al professor Ferraris quindi ho lasciato qualcosa più personalizzata per chi ha la mail o il mio whatsapp o dello staff del laboratorio che tra l'altro ringrazio per la cabina di regia ringrazio per le idee i nostri studenti e ringrazio per averci sostenuto per la locandina la divulgazione le redi sociali eccetera eccomi qua allora le mie dieci parole chiave così cerco di di dare non dico una forma ma di prendere qualche nota la prima parola chiave è tecnica in questo senso che uno si chiede ma sarà mai possibile che Trump abbia letto Rorty o Derrida ovvio che Trump non ha letto né Derrida né Rorty però sia Rorty sia Derrida erano molto sensibili al condizionamento che un apparato tecnologico può dare alla circolazione delle idee in fondo un apparato che poi è diventato sempre più evidente di orizzontalizzazione delle idee è quello che sta alla base dell'uno vale uno perché appunto nel fondo Hitler non sto facendo dei paragoni diretti era il proprietario della radio era lui che parlava alla radio gli altri ascoltavano invece Trump mandava i messaggi su Twitter esattamente come tutti gli altri quindi questa orizzontalizzazione fa diventare meno importante il ruolo dell'autorità della verità eccetera e quindi di fatto crea una società postmoderna andando molto al di là delle aspettative dei teorici del postmoderno ma appunto non è stata una battaglia di idee quella che ha fatto cambiare le cose le idee sono rimaste dentro l'università le strutture tecnosociali hanno cambiato la realtà e questo mi porta alla questione dell'etica quando ho incominciato la pandemia c'è stato tanto interrogarsi che a me sembrava allora e sembra ancora adesso molto ingenuo tipo stiamo riscoprendo la spiritualità come se uno che non ha mai avuto nessun interesse per la spiritualità e non saprei neanche criticarlo semplicemente per quello una volta chiuso in casa diventasse un mistico oppure leggesse delle cose spirituali ovvio che no quindi le persone hanno cambiato le loro abitudini durante il lockdown e altri aspetti della pandemia quando tutto questo sarà finito cambieranno di nuovo le loro abitudini però certi apparati tecnici resteranno in piedi nel senso che per esempio la consuetudine a fare a distanza tanti lavori o tante attività come stiamo facendo noi in questo momento in definitiva è un dato acquisito quindi tutto questo c'era già però è stato enormemente accelerato proprio dalle restrizioni e dalle urgenze imposte dalla pandemia rispetto a questo qual è l'atteggiamento quale può essere l'atteggiamento qui vengo alla terza parola chiave dopo tecnica ed etica ed è ribellione in fondo nei novax ma poi non li voglio neanche demonizzare insomma tutto questo atteggiamento tanto d'elite quanto di massa è un atteggiamento di ribellismo che caratteristica il ribellismo è c'è qualcosa e io mi ribello verso ciò che viene imposto tant'è che io sono assolutamente convinto che nel caso non si fossero trovati i vaccini o nel caso i vaccini fossero stati prodotti in quantità molto limitate e quindi applicati solo a certe fasce d'età solo a poche persone a questo punto la protesta non sarebbe stata contro il vaccino ma sarebbe stata per il vaccino cioè vogliamo essere vaccinati anche noi così come sono vaccinati gli altri perché appunto è un atteggiamento ribellista non mi importa contro quello che lotto mi importa lottare contro e quindi la quarta parola chiave è rivoluzione la rivoluzione è tutta un'altra cosa che il ribellismo nel senso che la vera rivoluzione non deve limitarsi a dire che cosa non vuole ma anche proporre quello che vuole e in effetti è questa la grande mancanza che noi viviamo in questo momento non è una mancanza assoluta anche perché poi mica uno può fare una rivoluzione ogni tre anni ma sicuramente non c'è niente di rivoluzionario nel ribellismo pensare che ci sia qualcosa di rivoluzionario nel ribellismo è come pensare che gli insorti in Vandea erano più rivoluzionari dei giacobini francesi no erano dei tradizionalisti cinque schiavitù in fondo la tecnica ha un ruolo importante l'ho detto e lo ripeto e qualcuno potrà dire ma allora è vero che siamo schiavi della tecnica no non è vero che noi siamo schiavi della tecnica dal momento che schiavo è soltanto chi vuole essere schiavo se noi con un'attività che è prima di tutto di pensiero ci rendiamo conto che la tecnica è qualcosa che esiste solo per gli umani e solo da parte degli umani perché un animale non ha in generale apparati tecnici e un apparato tecnico non ha in generale degli apparati tecnici soltanto un umano è un tipo di organismo sistematicamente connesso con degli apparati tecnici questo è quindi gli apparati tecnici sono nettamente una proiezione dell'umano che poi ritorna sull'umano cioè in fondo se noi adesso possiamo fare questi nostri discorsi da una parte all'altra dell'Atlantico e con diversi fusi orari eccetera e perché abbiamo degli apparati tecnici che non significano soltanto la piattaforma su cui stiamo dialogando ma il fatto che sia io sia Rossano siamo protetti da un tetto sulla testa abbiamo dei libri dietro alle nostre spalle da cui abbiamo imparato delle cose parliamo una lingua e anche questo è qualcosa che ci è venuta da fuori non è che siamo nati parlando questa lingua quindi c'è un ritorno della tecnica sugli umani però resta il fatto che quello se invece appunto fossimo nella savana inseguiti dei leoni non staremmo facendo tutti questi discorsi quindi però questo non comporta che noi siamo semplicemente appunto gli esecutori di un mandato che viene dalla tecnica certo che no il mandato è nostro e dobbiamo darlo noi la sesta parola chiave è liberismo uno dei discorsi più frequenti all'interno soprattutto della prima epoca della ribellione contro dell'elaborazione del virus c'è stata un'elaborazione del virus nel senso che si è cercato di metabolizzarlo di dare una ragione di inserirlo dentro le nostre vite era guardate il risultato del neoliberismo il risultato del neoliberismo è stato quello prima di generare una globalizzazione che ha reso possibile il virus a questo proposito io faccio notare però che la peste nera che per inciso ha ucciso un quarto della popolazione europea nel 300 quindi qualcosa di enormemente maggiore a quello che è successo adesso questa peste nera è avvenuta si direbbe in un'epoca che non era poi così globalizzata però al di là di questo di questo elemento storico resta il fatto che spesso si è detto che il liberismo ha voluto effettuare un controllo biopolitico sulle persone e questo è un'assurdità completa perché se liberismo non ha davvero nessun interesse al controllo biopolitico sulle persone e per inciso il controllo biopolitico sulle persone è qualcosa che costa molto più di quanto non renda quindi può essere o uno stato autoritario o uno stato sociale a esercitare un controllo biopolitico sulle persone e questo controllo biopolitico che appunto c'è sicuramente in Cina perché è uno stato autoritario ma c'è stato per fortuna anche in Europa nel senso che il motivo per cui in Europa in tanti paesi ci si è battuti così tanto nei confronti del virus si sono presi così tanti provvedimenti e per la tutela delle popolazioni non per tarpare la libertà delle popolazioni tant'è che queste popolazioni hanno potuto manifestare il loro dissenso in ogni modo in ogni termine eccetera in fondo quello che è stato tolto in maniera radicale per un certo periodo agli italiani è stato l'aperitivo questa è l'unica cosa l'aperitivo e il ristorante sono le uniche cose che ci sono state tolte esprimere le nostre idee fare quello che questo abbiamo potuto farlo comunque e paradossalmente invece proprio i paesi più neoliberisti come il Brasile come gli Stati Uniti come l'Inghilterra sono stati quelli che hanno ridotto il più possibile il controllo del virus perché perché c'è un senso in cui è conveniente avere aperti i ristoranti e le sale da concerto e tutto quanto perché questo fa girare l'economia quindi anche dire che c'era il complotto neoliberista per mettere in ginocchio l'umanità mi sembrava proprio parlare un po' a vanvera settima parola chiave paura si ha si ha avuto paura del virus ed è giusto averla così come però questa paura si andava inserendo in un'altra paura molto grande molto legittima che tutta l'umanità ha ed è la paura di perdere il lavoro e di perdere questo benessere che si nega ma che in realtà è significativo perché in fondo che adesso siamo in quasi 8 miliardi di persone mentre nell'ottocento eravamo in un miliardo che adesso la popolazione italiana sia generalmente sarà presto composta da vecchi come me e questo un tempo non succedeva perché i vecchi morivano uno dirà che sarebbe ora che io muoia io per me o dei progetti differenti ma al di là di questo significa che per esempio c'è una sanità pubblica più efficace che nell'ottocento ora c'è comunque la paura che questo nuovo mondo molto dominato da processi di automazione tolga il lavoro alle persone ed è quello che scatena per esempio i populismi quando c'è l'atteggiamento xenofobo contro i migranti che portano via al lavoro che poi in realtà i migranti in Italia fanno i lavori che nessuno vorrebbe fare quindi non portano via al lavoro a nessuno l'automazione porta via al lavoro certo ma porta via al lavoro i lavori che porta via sono dei lavori brutti dei lavori tutto sommato non degni di un umano e quindi è rispetto a questo che bisogna cioè bisogna sedare la paura non bisogna dare degli oggetti indeterminati appunto il moloch biopolitico dobbiamo per esempio far cosa qui ci sono le tre parole chiave con cui concludo questo ragionamento sono una specie di di radiografia degli atteggiamenti possibili che si possono fare per dare un rimedio alla paura il primo ed è la mia ottava parola chiave è la critica cioè in fondo quando la filosofia si è animata così tanto mettendo in dubbio i dati della scienza per esempio ha esercitato un proprio legittimo diritto e ha fatto anche bene nel senso che la filosofia è anche critica ma non dobbiamo dimenticare che e questa è la seconda atteggiamento nonché la nona parola chiave non bisogna farsi prendere dalla nostalgia cioè proiettare sul presente delle categorie che appartengono al passato pensare che ci sia davvero uno stato interessato al controllo capillare dei suoi cittadini questo c'è in Cina ma da noi non c'è lo stato non ha neanche le risorse finanziarie per controllare i cittadini oppure per interpretare le trasformazioni nel mondo del lavoro come un crescente impoverimento dell'umanità non è vero non si sta bene ma non è un crescente impoverimento che per inciso è una buona notizia perché ci dice che la via che stiamo imboccando da secoli è quella giusta oppure ancora sostenere che che ne so il web crea sempre più schiavi no non è vero non crea degli schiavi per esempio i lavoretti che vengono fatti fare dal web tipo Mechanical Turk pagare pochissimo una persona da qualche parte del mondo a fare dei lavori di riconoscimento sul web bene questi lavori scompariranno sempre di più perché tanto il web ha trovato il modo per avere questi stessi servizi gratis da tutta l'umanità invece che andare a cercare qualcuno in particolare e con questo vengo alla decima e ultima parola chiave che è la trasformazione ne dobbiamo pensare a una trasformazione questa trasformazione secondo me può avere luogo solo se si mette al centro l'umanità come il grande la grande risorsa che fa andare avanti la tecnologia quindi l'umanità deve riappropriarsi di tutto ciò che la tecnologia le ha preso senza restituirlo questa è una grande impresa un'impresa politica significativa un'impresa che sicuramente può essere fatta in questo momento purché appunto non ci si limiti a guardare al presente con gli schemi del passato perfetto grazie eccoci sì ci siamo sì grazie Maurizio andiamo alle domande c'è nella nella chat Pablo Pastore che ti chiede buonasera professor Ferraris come lei immagina la nostra società tra dieci o vent'anni ci stiamo muovendo verso una società come quella descritta nel libro Nuovo Mondo credo che in italiano sia stato tradotto così di Huxley e lui poi aggiunge una società sempre più artificiale e superficiale ma io su questo su questo sono sono ottimista perché cose come il Nuovo Mondo oppure 1984 che per inciso è stato curiosamente interpretato come il manifesto dell'antiliberismo mentre era un manifesto liberale contro il comunismo spesso si dimentica questo questo aspetto però si riferiscono delle forme di organizzazione del lavoro della società che richiedevano uniformità e un comportamento come di militari di soldati tutti irregimentati insomma il mondo che immaginava negli anni 30 per esempio Ernst Junger con l'operaio tutti gli operai devono sentire comportarsi come dei soldati i soldati sono gli operai del mondo nuovo tutti belli disciplinati tutti uguali un po' come le immagini di Metropolis di Fritz Lang in realtà questa situazione si è in parte prodotta in Cina perché la Cina ha comprato le piattaforme ha nazionalizzato le piattaforme non le piattaforme americane e sono tutte nazionali ha ridistribuito il plusvalore enorme che viene provocato dalla mobilitazione dei suoi cittadini sul web l'ha trasformato in un welfare noi sappiamo come la Cina un paese un tempo poverissimo abbia attualmente sconfitto la povertà sconfitto la povertà davvero e non come dicevano da noi per finta due anni fa diceva il nostro attuale ministro degli esteri Di Maio ma con un prezzo molto forte da pagare e cioè il fatto di rinunciare alla libertà perché nel momento in cui lo Stato è proprietario delle piattaforme allora ti controlla e ti e ti sanziona viceversa negli paesi come l'Europa e gli Stati Uniti in cui le piattaforme sono commerciali prevale un altro principio e cioè nulla è così redditizio dal punto di vista economico come la varietà e la molteplicità e la libertà dei comportamenti non è perché le piattaforme siano così appassionate di libertà che la libertà è redditizia la libertà è redditizia in se stesso perché le migliaia di differenti comportamenti che gli esseri umani hanno sul web generano un capitale molto superiore a quello che può essere generato in un universo molto più disciplinato come quello della Cina quindi io credo che l'idea di un mondo tutto regolato e tutto governato da algoritmi sia una idea distopica conviene molto di più invece vivere in un mondo in cui gli esseri umani fanno tutto quello che gli pare e del resto mi sembra che ci siamo quasi arrivati dal momento che se non si riesce a fare neanche una legge per dire i no vax vaccinatevi vuol dire che gli esseri umani fanno davvero tutto quello che gli pare bene bene c'è una una domanda sono un paio per la verità ce n'è una che cerco di tradurre velocemente che mi hanno spedito sulla sulla mail e un'altra su whatsapp marcello sì sì che ci chiede che è un po' lunga diciamo in sintesi vorrebbe sapere la tua idea filosofica sulla sull'annosa annosa è parola mia e vecchia questione dell'essenza della tecnica e lui riprende io lo lo ringrazio una una serie di credo che abbia fatto qualche materia con me di filosofia della scienza e della tecnologia non mi ricordo che sono centinaia di studenti ogni anno decine e decine ma comunque lo ringrazio che cita delle questioni la domanda è questa Maurizio però la volevo fondare un po' di più perché merita che anche una domanda mia in fin dei conti una questione quindi la questione della tecnica l'essenza della tecnica la famosa neutralità della tecnica e lui cita questo esempio che io faccio spesso a lezione per millenni e mi scuso per la sintesi estrema la filosofia si è occupata anche criticando come dicevi tu prima nella replica la scienza si è occupata della scienza e molto meno della tecnica perché la riteneva neutra non siamo né schiavi dico io non lo dice Marcello né padroni della tecnica c'è al cento per cento perché la tecnica è neutra il famoso martello sta là è un oggetto tecnico può servire ci interessa la teoria scientifica che è dietro al martello e ci interessa l'uso antropologico per così dire etico o non etico di chi la usa quindi per millenni mi scuso per la sintesi la tecnica è qualcosa di neutro dipende l'algoritmo per usare la tua ultima dipende dall'uso che se ne fa è semplice forse anche un po' superficiale ma si tratta di una domanda come dicevi tu prima Maurizio una frase importantissima e molto pertinente non siamo schiavi della tecnica se ho interpretato bene dicevi tu siamo schiavi di altri uomini che usano la tecnica o la tecnologia e qui io mi sembra di risentire alcune tesi di un altro autore molto caro che è Emanuele Severino scomparso da qualche da un paio di anni fa con il quale stavo scrivendo un dialogo che la morte ha interrotto su una delle nostre riviste va beh in memoria a Emanuele Severino quindi questa è la domanda di Marcello c'è la questione della tecnica la neutralità della tecnica la questione dell'essenza della tecnica e poi una disciplina una materia filosofia della tecnica ve lo dico sempre a lezione relativamente recente cioè il problema della tecnica è recente mettendo da parte Rousseau e altri autori durante i secoli è un problema post-rivoluzione industriale è un problema lo diciamo a lezione del secolo del ventesimo secolo del novecento se ci puoi dare una luce a me e a Marcello grazie allora non credo di poter dare la luce se non questa di questi tipi di apparati tecnici che ho dietro e che effettivamente danno danno luce cioè danno quello che promettono e ovviamente diciamo che questa luce è neutra nel senso che chi ha inventato la lampadina non pensava di star facendo qualcosa che avesse altro uso se non essere usata per illuminare ovviamente se io invece metto una lampadina fortissima nella cella di un prigioniero che non può dormire ed è continuamente illuminato perché gli altri lo controllino allora a questo punto sto facendo un uso repressivo della tecnica ma questo non dipende dalla lampadina così come non dipende dai pugnali la morte di Cesare per fortuna nel senso che almeno c'è la responsabilità e la decisione politica dei congiurati magari anche giusto magari hanno anche ragione però certo non sono stati non sono stati i pugnali noi invece molto spesso siamo portati a pensare che sono i grandi apparati tecnici che determinano gli eventi tipo le guerre vengono decise dal fatto che c'è una tale quantità di apparati tecnici che alla fine viene da viene da adoperare le armi no se le armi fossero date gratis non si adopererebbero il fatto è che c'è una grande convenienza economica nel produrre le armi e allora a questo punto saranno interessi economici cioè di esseri umani che presiedono l'esplosione della guerra tra l'altro noi abbiamo una enorme quantità di esempi di apparati tecnici che sono rimasti lì inutilizzati perché si avevano delle alternative quindi e poi sono diventati importanti solo in un secondo momento ad esempio la polvere da sparo apparato tecnico esisteva da tempi immemorabili immemorabili cioè i cinesi c'eravano già da un bel po' di tempo solo che la adoperavano per fare degli spettacoli pirotecnici solo molto tempo dopo è stato adoperato per fare dei cannoni e poi delle pistole e cose di questo genere dobbiamo dare la colpa di questo alla tecnica oppure al fatto che gli umani hanno pensato di usare la polvere da sparo per aumentare la loro forza secondo me la responsabilità nel bene o nel male non sto facendo del moralismo ricade tutta sugli umani oppure è molto studiato il fatto che nell'antichità ci fosse uno scarso interesse verso lo sviluppo di apparati tecnici in fondo gli antichi erano enormemente ingegnosi però per esempio anche lì apparati tecnici se ne facevano relativamente pochi per esempio c'erano negli apparati tecnici per l'assedio delle città perché lì c'era proprio un bisogno ma in moltissimi altri casi non si facevano non si facevano apparati tecnici nessuno ha mai pensato tra i romani di inventare una bicicletta e per inciso non si chiede già effettivamente non sarebbe stata una cattiva idea inventare la bicicletta e solo la bicicletta è stata inventata molto tempo dopo perché beh perché c'erano gli schiavi c'era un'enorme quantità di esseri umani che lavoravano come degli automi perfetti e quindi quello che adesso la tecnica può dare a tutta l'umanità era dato dagli schiavi che lo davano a pochi privilegiati quindi secondo me adesso la situazione è migliore la situazione è migliore anche per un altro motivo e cioè dare sempre la colpa e la responsabilità di tutto alla tecnica dire che la tecnica non è neutrale ma ci condiziona in fondo ci assolve dal nostro dovere fondamentale che invece è quello del governo politico della tecnica perfetto grazie Maurizio grazie a te ci avviciniamo alla alla fine della nostra del nostro seminario online della nostra diretta abbiamo ancora qualche minuto io stavo cercando di vedere qualche domanda un po' più succinta per poterla tradurre e capire c'è una domanda penultima o ultima vediamo perché comunque non volevo abusare diciamo della la tua disponibilità della tua pazienza una domanda generale che mi viene dal dal laboratorio ci dici qualcosa sulla post verità cioè sul termine post verità dizionario Oxford parola dell'anno 2016 quella definizione se voi lo trovate in italiano la possiamo quindi eletta parola dell'anno 2016 se non se non mi sbaglio da quella definizione forse si è fatto qualche passo avanti mi chiedevano non necessariamente positivo cioè è meglio leggerla per farci capire cioè la situazione è cambiata per quanto riguarda la definizione anche l'impatto sociale post verità nel 2016 il dizionario Oxford l'ho trovata in italiano la leggo parola internazionale dell'anno la definiva relativo a o ciò che denota circostanze nelle quali fatti obiettivi sono meno influenti nell'orientare la pubblica opinione che gli appelli all'emotività e alle convinzioni personali chiudi virgolette è ancora attuale o qualcosa è peggiorato diciamo siamo di fronte alla totale assenza di qualsiasi riferimento alla verità cioè non c'è una lotta tra fatti obiettivi e apelli no i fatti obiettivi sono scomparsi credo che sia questo il senso se ho tradotto bene della domanda dei ragazzi beh allora intanto la caratteristica della post verità non è il fatto che l'emotività prevalga sull'oggettività perché così è sempre stato l'essere umano se noi immaginiamo l'entusiasmo delle persone che andavano a farsi ammazzare in guerra soprattutto all'inizio della prima guerra mondiale uno pensa che se non era prevalere dell'emotività sull'oggettività quello allora niente prevalere dell'emotività sopra l'oggettività il fatto specifico della post verità il fatto che adesso si parli di post verità e non in altri tempi deriva semplicemente dal fatto che adesso c'è quella situazione in cui abbiamo una situazione comunicativa che non è più verticale per cui uno può calare la propria verità o più spesso la propria menzogna dall'alto ma invece tutti quanti orizzontalmente si scambiano delle loro opinioni e poi dopo le opinioni possono essere rilanciate rimandate rinviate a questo punto si crea una babele e l'effetto di un prevalere di una di una crescita della post verità c'è ma è un effetto semplicemente quantitativo cioè molto più manifesto in altri termini c'era post verità sicuramente anche all'epoca di Ulisse o nelle caverne del Neolitico solo circolava molto di meno e non ha lasciato tracce adesso invece circola moltissimo e lascia moltissime tracce però io non concluderei con questo che è scomparsa la verità anche perché poi la verità è un elemento imprescindibile nella vita delle persone cioè se io prometto di se io vado al ristorante ed esco senza pagare non posso cavarmela dicendo al ristoratore non ci sono fatti solo interpretazioni il ristoratore chiederà che io paghi e fra l'altro chiederà che io paghi esattamente la cifra che era stata patrita per il cibo e funziona così il mondo i biglietti del treno oppure i biglietti d'aereo dunque non è così facile disfarsi della verità bene un'ultima domanda Maurizio è molto una domanda diciamo che parte dalla realtà brasiliana ma anche soprattutto dalla realtà brasiliana è una domanda interessante che ci fa ti fa Vania cerco di riassumerla nel mondo post pandemico e anche anche a partire o diciamo una prospettiva uno sguardo filosofico sulla che cosa cambia o che cosa può essere posto che cosa la filosofia può dirci in questo mondo post pandemia per quanto sulla 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 disuguaglianza cioè sul che sono state smascherate in una maniera fortissima dall'emergenza pandemica cioè il sistema di salute pubblico il SUS qua in Brasile dove già c'è una disuguaglianza fortissima addirittura siamo a livello a lavare le mani è un gesto un'espressione mia non quasi un gesto scherzo tragicamente di ribellione perché l'acqua non c'è non c'è il sapone quindi delle misure di sicurezza di igiene basilari basiche quindi che cosa potremmo dire di fronte a questa realtà lo so che è molto complesso Maurizio che ha aperto questi orizzonti che ha aperti ancora di più in modo tragico la parola chiave della domanda mi sembra la disuguaglianza il presente e il futuro quindi non so una nuova etica una maniera che cosa possiamo dire filosoficamente e socialmente a questa diciamo questa realtà di disuguaglianza fortissima già precedente in Brasile si sente molto questo cioè già era difficilissimo e tragico prima gesti basilari come lavarsi le mani perché l'acqua non c'è figuriamoci durante e dopo credo di averli eh che è un po' difficile poi tradurre eh e anche eh moderare eccetera non so se sono stato chiaro no no sei stato molto chiaro e ti ringrazio ti ringrazio molto per eh per aver tradotto questa domanda che è importantissima eh cioè eh mai come in situazioni critiche ci si rende conto della disuguaglianza e di quanto si paghino le disuguaglianze appunto eh anche solo il lavarsi le mani o eh diventa diventa più difficile in momenti in cui lavarsi le mani non è semplicemente una norma di igiene ma può salvare una vita eh proprio questo però rende possibile una eh crescita degli interventi del governo dei governi per rimediare alle disuguaglianze credo che un governo responsabile debba impegnarsi a limitare le disuguaglianze e il dato molto positivo che si è avuto in Europa ripeto l'Unione Europea era un'istituzione che aveva delle enormi difficoltà prima della pandemia adesso invece è ritornata molto forte principalmente per due motivi primo perché ha potuto negoziare e ottenere i vaccini e somministrare i vaccini a coloro che volevano riceverli e quindi ha avuto un intervento molto forte gli singoli stati europei avrebbero sicuramente potuto avere una forza molto minore rispetto a quella che ha avuto l'Unione Europea dall'altra adesso l'intera Unione Europea sta avviando un grande piano di grandissimi investimenti proprio per ridurre le disuguaglianze che si sono manifestate durante il virus manifestate in maniera particolarmente palese quindi è la politica che deve risolvere questi problemi non possiamo dare la colpa al virus non possiamo dare la colpa alla tecnica se c'è un problema bene questo problema dipende dalla politica e quindi bisogna pensare bene chi si vota quando si va a votare benissimo credo che controllare se c'è qualche no possiamo se Maurizio è d'accordo siamo proprio puntuali con i limiti di tempo che c'eravamo dati possiamo diciamo terminare i lavori di questo seminario e ringraziare ovviamente e di nuovo chi ci ha ascoltato ringraziare lo staff dell'Abbonto del laboratorio di filosofia Gerardo Marotta qui dell'Unirio e ovviamente il professor Maurizio Ferrari ricordo che questo seminario grazie alla tecnica alle tecnologie rimane disponibile la famosa documentalità un'altra vecchia conoscenza nostra è un di Maurizio Ferraris è un concetto va bene rimarrà qui disponibile nel canale del laboratorio e quindi io chiuderei così Maurizio vuoi un'ultima parola due parole innanzitutto per ringraziare Tero Sano per aver avuto questa questa iniziativa così generosa che mi ha permesso anche di vedere poi le cose da un altro punto di vista e che è sempre molto produttivo perché ovviamente ecco una delle conseguenze che ha avuto questo virus è che ci ha fatto viaggiare di meno e questo fatto del viaggiare di meno ci ha resi un po' più locali eccetera sebbene poi abbia sviluppato dei meccanismi come quello comunque io a Rio preferisco andarci di persona che non invece su una piattaforma in ogni caso grazie a te grazie a coloro che hanno avuto il tempo di ascoltarmi e a presto bene grazie a tutti ancora e alla prossima ciao ciao